Salmo 46, per il capo dei musici, dei figliuoli di core, per voci di fanciulle, canto. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette. Perciò noi non temeremo, anche quando fosse sconvolta la terra, quando i monti fossero smossi in seno ai mari, quando le acque del mare muggissero e schiumassero, e per il loro gonfiarsi tremassero i monti. V'è un fiume, i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Il Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Il Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. Le nazioni romoreggiano, i regni si commuovono, egli fa udire la sua voce, la terra si strugge. L'Eterno degli eserciti è con noi, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. Venite, mirate le opere dell'Eterno il quale compie sulla terra cose stupende. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi e spezza le lance, arde i carri nel fuoco. Fermatevi, Ehi dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto.